Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, finalmente Pila Bike Park ha aperto, oggi è il weekend dell'apertura, domenica sono insieme a Lori Kid, com'è? Troppo figo! Pisso e da paura, c'è già un po' di sabbia ma sotto il terreno è ancora fighissimo, i boschi sono da paura, vedrete un bel video insieme a questo pazzo e ad altri criminali Tanta paura! Attenzione, primo giorno in parco a Pila, che figata! Seguendo Mr. Loris Revelli, che è venuto qua a girare Non so che pista voglia fare, ma direi che qualsiasi qua è buona, guarda che terra! Crap, se ne risalti, finissimo! Attenzione, Lori Mascherini davanti, appena conquistato, medaglia di bronzo agli europei di Maribor, già taglia tra gli alberi! Che terreno! Sa che dietro c'è un bel po' di polvere Ciao, ciao! Noi! 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 Go! Oh! Oh! Haha! Madonna! Oh! 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 No, no, no. oh 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 Sì 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 Aspettazione, l'Olo Criminal davanti adesso Uh Ti cipo dietro la radice, che stile Uh 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 Sì Ragazzi spero che renda quanto è bella sta pista E quanto è bella la terra oggi A parte questo tratto con la polvere Uh 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 Sì 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 Sì